Da qualunque punto di vista la si guardi, il 1 agosto è stata una giornata storica per Bitonto, perché dopo oltre 50 anni non è più l'azienda Servizi Vari a gestire i rifiuti, ma una nuova società, la Samb, che dopo anni di difficoltà, polemiche e rifinanziamenti è diventata finalmente in realtà. La nuova società, completamente pubblica e che gestirà anche l'igiene urbana di Molfetta, Corato, Ruvo e Terlizzi, è stata presentata ieri, insieme ai tanti obiettivi e alle molteplici cose che si vogliono realizzare, in tema, in primis di investimenti, di idee, di sguardo al futuro. Siamo, guardate, un aro che serve 215.000 abitanti. Siamo il secondo aro pugliese per numero di abitanti. Noi siamo nati e abbiamo iniziato con il preciso obiettivo di adeguare anche il comune di Bitonto a quegli standard di raccolta differenziata che quest'aro, già con l'Assipu, ha raggiunto in altri comuni. Questo è uno dei primi obiettivi. E vantaggi spera di averne tanti anche la nostra città. In primis, quello della raccolta porta a porta totale, che però non partirà proprio nell'immediato. È stata una strada particolarmente compressa, non solo sotto il profilo burocratico, ma come scelta strategica. Oggi però possiamo dire con grande orgoglio di aver fondato una società capitale interamente pubblico, con tutti i comuni dell'Aro, che ci dà la possibilità di effettuare investimenti.